Siamo a posto, ma mancano ancora tre partite, quindi c'è una gara importante, direi fondamentale, che è la prossima e poi ce ne sono altre due. Le altre due dipendono molto da quello che faremo la prossima. Franco, te abbiamo visto nel finale molto attento a tenere alta la tensione del Bologna, forse Memore di quello che era accaduto a Udine. Noi in certi momenti siamo una squadra anche attenta, concentrata al 100% in altri, basta un episodio negativo che ci mette un po' in ansia. E quindi Memore anche della settimana scorsa, perché non è la prima volta, quindi sappiamo bene cosa vuol dire. Però più che altro era il timore di vedere vanificato quello che dovevamo chiudere durante tutto il secondo tempo con delle occasioni semplici da realizzare. Non è accaduto e quando non riesce a fare il terzo gol soffre fino alla fine. Però la gestione è stata eccellente in questo caso, la gestione era a padre. Beh, migliore, insomma anche la stanchezza ha preso tutto, ha preso noi, però essendo in vantaggio con la palla da far girare, per parecchio tempo anche con l'uomo in più, quindi abbiamo fatto meno fatica di loro, forse anche se nel finale siamo rimasti anche noi come loro. Per cui anche il Parma faceva fatica ad aggredirci, ripartiva dalla sua area, dalla sua metà campo. Tutto sommato riuscivamo a chiuderci abbastanza bene, però è stata una gara impegnativa, soprattutto quel gol iniziale ci ha fatto ripiombare in problemi antichi. E allora abbiamo reagito, abbiamo trovato il pari, ribadisco, se la chiudi va tutto bene, se non la chiudi soffri fino in fondo. Ha vinto la linea dell'esperienza con la doppietta di Divaio? C'era chi magari voleva i giovani in campo? Guarda, non mi piacciono questi discorsi, ha vinto il Bologna, il Bologna ha un suo allenatore che fa le sue scelte, le fa cercando di ragionare il più possibile, come tutti è fallibile, perché se no non sarei qua, penso. E allora però è un allenatore che ragiona, come ho detto prima, quindi cerco di fare le cose giuste, e poi è ovvio che qualche volta si può sbagliare, ma non è sicuramente la volontà. Di sicuro quando ci sono dei valori, a meno che questi valori non siano demotivati o apatici o abulici durante gli allenamenti, i valori vanno messi in campo, penso io. Se invece i valori non si comportano da uomini di valore, allora vanno anche accantonati, non è il nostro caso. Ultima cosa, spesso vieni criticato perché fai i cambi lenti, stavolta hai fatto cambi veloci e sei rimasto in dieci per un infortunio. Rimango della mia idea, io lo so che è così, lo so che è così, per cui prossima volta non voglio più sentirla questa cosa. Abbiamo anche scherzato un po' su questo. Ma io avete preso uno a cui piace scherzare, però delle volte voi, un po' esagerato, non in questo caso. Pisano ha fatto un buono scampo di partito. Sì, ma è un po' che lo vedo bene, ma ribadisco il concetto che stavo dicendo prima. Qui attaccanti o esterni, ne ho tanti, quindi faccio fatica ad accontentare tutti. Cerco di trovare lo scampolo giusto per qualcuno, cerco di trovare la possibilità di mettersi in mostra per altri. Purtroppo questo finale incandescente non mi consente di soddisfare tutti, questo lo so. Me ne faccio così carico, però è il mio lavoro, quindi cerco di farlo bene. Oggi poteva essere la sua partita, è un ex, così come lo era Valiani dall'altra parte. Quindi ha fatto un buono scampolo, poteva anche segnare. Di sicuro non ha grande autonomia, è una vita che non gioca. È un giocatore che deve ritrovare il ritmo e condizione, ma lo troverà certo in questo finale. Magari ripartendo dalla prossima stagione potrebbe essere un'arma anche importante. Senti, Bergamo e Bologna avranno due risultati su tre a disposizione a questo punto. Sì, ma guarda, noi andiamo per fare la nostra partita. A Udine siamo andati per fare la nostra gara, oggi anche. È sempre così, giochiamo uguale dappertutto. Non è che possiamo dire oggi facciamo una partita tutta chiusa, difensiva. Noi dobbiamo stare in dieci a difendere e in dieci ad offendere, perché questa è la nostra caratteristica. Oggi è andata bene che Di Vaio, fra l'altro per chi non lo sapesse, è San Marco oggi. Quindi voglio dire, più di così non poteva essere premiato. Quindi va bene così. Ultima cosa, Mudingai come sta? Preoccupa per... È un problema muscolare da valutarsi. No, no, questo è un pezzo unico, regalato a me dai tifosi e quindi lo tengo come un ricordo caro che ho voluto spianare oggi, ovviamente onorando l'iniziativa dei tifosi di presentarsi con la maglia. Perché la maglia ha lo scudetto e il numero 8 di Bulgarelli. Il numero 8 di Bulgarelli, questa è la riproduzione esatta della maglia di Bulgarelli, un pezzo raro. Oggi tutto bene, Presidenta? Sì, oggi tutto bene, ma abbiamo sofferto, perché abbiamo sofferto fino alla fine, ma è una partita che volevamo vincere, abbiamo dimostrato di voler vincere a tutti i costi, perché si era messa un po' male sull'1-0, effettivamente invece i ragazzi hanno reagito, hanno reagito subito con grande intensità, con grande voglia di vincere, quindi l'abbiamo portata a casa, ma meritata. Salvezza ipotecato, è ancora presto per parlarne? No, abbiamo fatto un passo avanti, è presto ancora per parlarne, anche se ci avviciniamo. Ecco, sarà fondamentale, io credo, lo sconto diretto di domenica a Bergamo, però ci presentiamo con 5 punti di vantaggio rispetto a loro, quindi noi andremo là, faremo la nostra partita cercando di fare punti. La salvezza sta passando di nuovo dai gol di Marco Di Vaio, che per qualche settimana qualcuno aveva anche messo un po' in discussione, magari si sperava qualcuno che giocassero quelli più giovani e freschi, invece alla fine il capitano ha dimostrato di portare il Bologna alla salvezza con i suoi gol. Marco è sempre una certezza, poi ha avuto dei momenti magari un po' difficili, d'altra parte quando un attaccante non segna, magari così subentrano un po' di condizionamenti psicologici, però Marco è un professionista, è una persona straordinaria, quindi i due gol di oggi io credo che lo abbiano reso felice lui, ma soprattutto la squadra. Un'ultima cosa, Leonardo si è molto lamentato per l'arbitraggio, per il fatto che il Bologna in settimana avesse preparato il dossier, avesse in qualche modo preparato il terreno per avere dei favori, e così dice Leonardo, non abbiamo bene capito cosa si riferisse forse all'espulsione di Zaccardo, vuole replicare in qualche modo, visto che Leonardo qua si è anche molto arrabbiato dicendo che a Bologna siamo maestri nel preparare il terreno alle vittorie. No, assolutamente, noi in settimana abbiamo semplicemente rimarcato gli episodi negativi che ci hanno condizionato, non c'erano ovviamente altre motivazioni in tal senso, mi è sembrato l'espulsione di Zaccardo francamente sacrosanta, così come mi è sembrato sacrosanto il nostro secondo gol annullato. Cosa si aspetta adesso da Bergamo, o dai tifosi a Bergamo? Io mi aspetto una presenza numerosissima dei tifosi a Bergamo, così come oggi, insomma una grande cornice di pubblico che ha aiutato molto, io credo, i ragazzi, li ha sempre sostenuti. Vedere la curva a San Luca piena, erano anni che non si vedeva, è brutto vedere quella fetta di stadio così vuota. Quindi io mi auguro che domenica vengano numerosi.